Dopo due mesi di lockdown e i primi allentamenti delle misure restrittive, l'Italia entra ufficialmente nella sua nuova fase, la fase 3. Da oggi, infatti, sarà di nuovo possibile spostarsi da una regione all'altra per qualsiasi motivo e non sarà più necessaria un'autocertificazione accompagnata dai soliti validi motivi. Oltre al distanziamento sociale, anche dopo il 2 giugno resiste la mascherina. È obbligatorio indossarla nei luoghi pubblici come negozi, parrucchieri e su tutti i mezzi pubblici, in aereo e anche sul treno. Non cambia nulla, dunque, dal punto di vista del divieto di abbracciarsi, anche se non si appartiene allo stesso nucleo familiare e non si è congiunti. Per quanto riguarda le regole igieniche, come ad esempio l'attenzione al lavaggio delle mani, gli assembramenti restano vietati e dove per entrare veniva misurata la temperatura sarà ancora così. Cambiano le regole anche per quanto riguarda i viaggi all'estero. Per gli italiani che progettano le ferie o periodi fuori dai confini nazionali, c'è la possibilità di viaggiare in una serie di paesi che apriranno le frontiere. La Francia, in particolare, dal 15 giugno eliminerà i controlli e richiederà solo un'autocertificazione. La Spagna cancellerà dal 1 luglio la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori. Discorso a parte per la Grecia. Con una nota pubblicata dall'ambasciata, il paese ha chiarito lunedì scorso le linee guida indicando termini e condizioni per la riapertura a visitatori stranieri, compresi i turisti provenienti dall'Italia. Le condizioni non sono le stesse per tutte le regioni di provenienza. I turisti in arrivo da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto saranno sottoposti a un test al momento del loro arrivo. Riapre agli italiani anche la Croazia, che chiederà ai turisti di raggiungere il paese con una prenotazione formalizzata. Stessa strategia in sostanza adottata dalla Slovenia. L'Austria, invece, dal 15 giugno consentirà la libera circolazione senza alcun controllo delle frontiere con Germania, Svizzera e Liechtenstein. Ancora da definire la situazione con l'Italia. Al momento, in attesa di eventuali novità, semaforo rosso ai turisti italiani da Finlandia, Germania, Danimarca, Malta, Belgio, Polonia, Romania, Ungheria, Norvegia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Bosnia, Polonia, Montenegro, Ucraina e Russia.